Firmato in prefettura un protocollo d'intesa, un importante accordo contro la violenza sulle donne e il rinnovo di un accordo precedente, un lavoro che dura da diversi anni, come ci spiega l'assessore provinciale alle pari opportunità Carla Borghesi? Il significato di siglare un protocollo d'intesa che già affonda le sue radici nel passato, oggi viene rinnovato, che vede coinvolti vari soggetti del territorio, la prefettura, la procura, l'asle, le cinque zone sociosanitarie, la consigliera di parità, l'associazione pronto donna e la provincia, coinvolte in un percorso di sensibilizzazione e lotta a quella che è la violenza sulle donne. In un momento così particolare nel quale certi fenomeni anche di violenza vengono acuiti, questo protocollo assume particolare significato e quindi siamo soddisfatti perché possiamo mettere in campo azioni sinergiche che vedono come principali obiettivi quello di un'azione di sensibilizzazione sulle scuole e non solo, azioni di formazione ma anche, come dire, qualsiasi tipo di azione che veda il superamento di stereotipi e pregiudizi ma anche percorsi di aiuto per queste donne che hanno subito violenza, percorsi di fuoriuscita anche con accompagnamento al lavoro e quant'altro. E un ruolo importante in questo accordo ci dà anche la Regione Toscana con la sua legge regionale, come ci spiega l'assessore al welfare Salvatore Allocchi? Abbiamo una legge importante, la legge 59, che tenta di dare sistematicità alla battaglia contro la violenza di genere. Io ritengo che noi dobbiamo contrastare tutti i fenomeni di violenza, ma che bisogna comprendere quanto la violenza di genere sia un fenomeno profondo, un fenomeno trasversale e che ha un suo specifico e che riguarda la relazione tra i sessi, tra i generi, come viene impostata, come si cresce dentro, come dire, idee complessive del rapporto tra i generi. E quindi il fenomeno della violenza ha tutta una serie di aspetti, da quelli più acuti, penso al femminicidio, penso alle violenze che portano le donne al pronto soccorso, ma anche alle violenze psicologiche, alla distorsione dei rapporti anche affettivi tra gli adolescenti. Ecco, quindi è un fenomeno che va affrontato in tutti i suoi aspetti e proprio per questo è importante che ci sia una rete in cui ogni protagonista si situa su un segmento del problema. E' quello che intendiamo fare, che è costruire quindi una rete robusta che sia in grado di essere efficace per il contrasto del fenomeno.